Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale di MyMathematica. Oggi andiamo a vedere il significato geometrico del teorema di Lagrange. Bene, come potete vedere io mi sono già avvantaggiato, ho disegnato un piano e su questo piano una generica funzione y uguale f di x. Questa funzione deve naturalmente soddisfare le ipotesi del teorema di Lagrange, quindi andiamo a chiedere che la funzione sia continua nell'intervallo chiuso e limitato a b, quindi sto naturalmente includendo anche gli estremi di questo intervallo, e la funzione deve essere naturalmente anche derivabile nello stesso intervallo, esclusi però i bordi, quindi un intervallo aperto ma limitato. Ecco, se sono vere queste due ipotesi, il teorema di Lagrange ci dice la formulina che noi sappiamo molto bene che è f di b meno f di a fratto b meno a uguale f' di c, dove c è un punto che si trova all'interno di questo intervallo, potrebbero essercene anche due, tre, quindi più di uno di questi punti c, a partire dal quale questo rapporto, quindi, è proprio uguale alla derivata prima della funzione calcolata in questo punto. Ora, questa è l'espressione algebrica, questa è l'espressione analitica del teorema di Lagrange, ma tradotta in termini geometrici, che cosa significa? Allora, partiamo innanzitutto dal primo membro di questa equazione. Il primo membro, se voi notate, abbiamo sopra una differenza tra f di b e f di a, cioè è una differenza tra le f, quindi tra le y, quindi potremmo scrivere y relativa al punto b meno la y relativa al punto a fratto b meno a. Beh, ma se pensate un attimo, questo rapporto è quello che voi avevate chiamato delta y su delta x. E che cos'è questo delta y su delta x? Altro non è che il coefficiente angolare di una retta passante per due punti, quindi scriviamolo qua, coefficiente angolare retta passante per due punti. Beh, e chi sono i punti? Beh, i punti sono proprio a f di a e b f di b. Quindi vuol dire che esiste una retta, che chiameremo retta secante, che praticamente attraversa la funzione nella sua totalità. Ok? E questo numero, che a noi viene fuori, perché questo è un numero, altro non è che il coefficiente angolare della retta che abbiamo appena disegnato. Adesso andiamo a dedicarci invece al secondo membro, e qui abbiamo f' di c. Allora, se noi ricordiamo il significato geometrico della derivata, sappiamo che se noi andiamo a fare la derivata di una funzione e la andiamo a calcolare in un punto ben preciso, che cosa stiamo trovando dal punto di vista geometrico? Stiamo trovando il coefficiente angolare di una retta tangente ad f di x in x uguale c. Quindi questo che significa? Significa che da qualche parte in questo grafico, ad esempio perché no, io lo vengo a mettere qua, c'è un punto c a partire dal quale io posso creare una retta tangente. Quindi andiamola a disegnare questa volta la retta tangente. Eccola qua. Questa uguaglianza mi sta dicendo che il coefficiente angolare della retta tangente è uguale al coefficiente angolare della retta tangente. Bene, ma noi ricordiamo che prese due rette, questa chiamiamo la retta secante, quindi retta s e questa retta tangente t, che cosa succedeva? che se noi abbiamo m di t uguale ad m di s, allora la condizione di parallelismo tra rette, quindi questa uguaglianza implica che la retta t è parallela alla retta s. Insomma, il significato geometrico del teorema di Lagrange prevede che a partire dalla retta secante, se la funzione soddisfa le ipotesi di cui abbiamo parlato all'inizio del video, è sempre possibile trovare almeno un punto interno al nostro intervallo a partire dal quale la retta tangente sarà sempre parallela alla retta secante. Se ovviamente guardate bene questo grafico volendo, potremmo trovarne anche un altro di punto, ad esempio, perché no, potremmo trovarne un altro qua, magari lo chiamiamo c star, a partire dal quale potremmo, come vedete, andare a disegnare un'ulteriore retta tangente, che chiamiamo t primo. Spero che il video vi sia piaciuto, ma come al solito voglio lasciarvi con una domanda, naturalmente rispondete nei commenti, la domanda che vi faccio è questa, cosa succede se questo valore è 0? A quale teorema ci siamo ricondotti? A quale teorema del calcolo differenziale ci siamo ricondotti quando f primo di c vale 0? Mi raccomando, fatemelo sapere e scrivetelo nei commenti.